Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile, oggi parleremo di malattie rare che sono patologie gravi, invalidanti, questo però non significa che colpiscano un numero limitato di persone, ma soprattutto che ne siano poche come malattie. Pensate che in Italia, secondo la rete Orfanet, i malati rari sono 2 milioni o giù di lì e che il 70% di questi è rappresentato da bambini in età pediatrica. Sono malattie gravi e invalidanti che però devono trovare un giusto riconoscimento. Pensate che non tutte sono diagnosticate, oggi secondo diverse scuole di pensiero quelle conosciute e diagnosticate sono 7 mila, forse 8 mila. Ma qual è la situazione in Abruzzo? Ne parliamo con due graditissime ospiti, ve le presento subito e volentieri. Buongiorno e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Silvia Di Michele. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei, specialista in pediatria, referente per le malattie rare della regione Abruzzo. Buongiorno e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Giorgia Fragassi. Buongiorno dottoressa, biologa, referente, agenzia sanitaria della nostra regione, della regione Abruzzo. Io partirei subito con la dottoressa Di Michele e le chiedo la domanda più facile. Che cosa si intende per malattia rara, dottoressa? Una domanda apparentemente facile che ha una risposta in realtà difficile, come possiamo vedere nella prima diapositiva. La definizione di malattia rara è una definizione arbitraria perché si basa su una misura epidemiologica, nel senso che nella comunità europea è stato stabilito che sono considerate malattie rare quelle che hanno una prevalenza non superiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti. Il Congresso degli Stati Uniti, per esempio, definisce una prevalenza non superiore a 7,5 casi ogni 10.000 abitanti, quindi già una lieve discrepanza tra paesi. Come lei ha ben detto, le malattie rare sono molte e quindi in realtà, dico sempre, sono rare, ma i malati rari sono tantissimi, oscillando tra le 7-8.000, spesso diagnosticate con grave ritardo, proprio per la difficoltà di una tale eterogenità di quadri e, nello stesso tempo, una diversa, diciamo, incidenza nelle popolazioni. Alcune malattie possono essere più frequenti in un'area geografica per delle caratteristiche genetiche, per dei fattori ambientali di una popolazione, essere molto rare in altre aree. Tra l'altro, essendo una misura basata sulla prevalenza, chiaramente il dato può cambiare nel tempo, quindi una malattia che in passato veniva considerata rara, come per esempio l'esempio più classico italiano, la malattia celiaca, l'intolleranza al glutine, oggi non è più considerata rara, ma si è visto che ha una frequenza ben più alta. Ne conosciamo le cause, dottoressa, quali sono le malattie rare più frequenti? Allora, nell'80% dei casi si tratta di cause genetiche, quindi come ci può far vedere la prossima diapositiva. Nella più piccola percentuale di cause, ovviamente invece abbiamo una miscellanea tra infezioni, allergie, cause degenerative, proliferative, eccetera, ma la stragrande maggioranza ha una causa genetica che può essere ereditaria o ex novo, cioè comparire all'interno di una famiglia in maniera, diciamo, inaspettata. Se andiamo alla prossima diapositiva, le malattie rare sono un campo difficile dove veramente è lo sforzo medico intenso proprio perché possono riguardare qualsiasi ambito del nostro sistema, diciamo, di qualsiasi sistema d'apparato. In particolare nei bambini e nei pazienti al di sotto di 14 anni si tratta spesso di malformazioni congenite, pensate che sono per lo più quasi la metà dei casi, il 45% dei casi, o malattie endocrine, malattie del metabolismo e per circa un 20% di cause malattie del sistema immunitario. Negli adulti invece sono più frequenti le malattie del sistema nervoso e le malattie degli organi di senso, nonché le malattie del sangue e del sistema emopoietico, che da sole rappresentano un quinto dei casi dell'adulto. Quindi tante cause, tante diverse specialistiche nella rarità dei pazienti e questo rende ragione della difficoltà della diagnosi e della presa in carico. Assolutamente sì. Come sono regolamentate le malattie rare in Italia, dottoressa? Allora, per fare breve una lunghissima storia, ho portato, citiamo solo tre momenti fondamentali della storia delle malattie rare in Italia. Il decreto che ha, diciamo, apportato la più grande modifica e ha introdotto la rete nazionale delle malattie rare è il decreto numero 279 del 2001, quando per la prima volta appunto si è regolamentata la rete nazionale e sono stati in qualche modo stabiliti tutti i codici di esenzione della partecipazione al costo. Questo ha portato un grosso lavoro all'interno di tutte le istituzioni predisposte e finalmente nel 2014 il piano razionale per le malattie rare è stato adottato in sede di conferenza Stato-Regioni per poter garantire una certa omogenità sul territorio nazionale. Con il DPCM del 2017 c'è stata la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, le malattie rare quindi sono regolamentate da ILEA e questo, diciamo, è stata la spinta per uniformare il trattamento e la presa in carico dei malattie rari a livello nazionale. Vado dalla dottoressa Fragassi, questo è il quadro normativo nazionale, questo quadro normativo nazionale come è stato applicato nella nostra regione. La regione Abruzzo con delibera di giunta regionale numero 808 del 2017 ha recepito le direttive nazionali adeguandosi in questo modo a quelle che sono le linee di indirizzo che provengono dal Governo centrale. L'808 ha introdotto nella nostra regione importanti innovazioni nella regolamentazione dell'assistenza sanitaria per la malattia rara, includendo diversi ambiti di attività, dalla riattivazione di un registro regionale delle malattie rare all'attivazione di un programma di screening neonatale steso, fino ad arrivare addirittura ad un adeguamento di quella che è la rete regionale delle malattie rare. Come viene preso in carico un paziente con sospetto di malattia rara, dottoressa? La presa in carico del paziente deve essere contestualizzata a quella che è la rete regionale delle malattie rare. Una rete che si compone di diversi nodi, che vanno dalla presa in carico da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che rappresentano la porta di accesso ai presidi. Presidi che operano e interagiscono non solo con la propria ASL di appartenenza, ma anche con altri due nodi fondamentali della rete, che sono dati dall'Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo e dal centro di coordinamento regionale rappresentato dalla UOC di pediatria del presidio ospedaliero di Pescara. Questi nodi concorrono insieme, con competenze specifiche, a garantire quella che è una presa in carico globale del paziente. Quando parliamo di presidi facciamo riferimento alle unità operative, che presentano expertise, requisiti qualitativi in grado di garantire la gestione di specifiche malattie rare o gruppi di malattie rare. I presidi presenti nella nostra regione sono elencati nell'allegato 1 alla DGR 808, quindi per ogni malattia o gruppo di malattia viene individuata l'unità operativa in grado di prendere in carico il paziente con quella specifica patologia. Volendo delineare quindi il percorso del paziente all'interno di questa rete si parte da quello che è il sospetto diagnostico. Il sospetto diagnostico formulato quindi dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o da un medico specialista, i quali indirizzano il paziente presso il presidio della rete regionale specifico per la patologia che è stata sospettata. Il paziente si rega al presidio con un'impegnativa nella quale bisognerà specificare il codice di esenzione provvisorio R99 e la classe di priorità breve. Quindi questi sono due aspetti molto importanti che tutelano molto il paziente. Lo specialista del presidio effettuerà tutti gli accertamenti clinici strumentali che sono necessari per arrivare all'inquadramento diagnostico. Anche per lo specialista del presidio viene chiesto di utilizzare il codice di esenzione provvisorio R99 per la prescrizione di tutte le indagini che reputerà necessarie. Completato quindi l'inquadramento diagnostico, qualora fosse confermata la diagnosi di malattia rara, il paziente viene preso in carico dal presidio. Una presa in carico che prevede quindi la formulazione di un piano di trattamento, che prevede una definizione di quelle che sono le fasi del monitoraggio che sono all'interno del follow up del paziente, ma una presa in carico che prevede anche la certificazione. Una certificazione che deve essere redatta dallo specialista del presidio entro 10 giorni dalla conferma diagnostica e tramite questo certificato il paziente può recarsi al distretto sanitario dell'ASL di residenza per richiedere appunto l'esenzione. L'esenzione. E questo è un passaggio importante, perché è quello al quale diciamo un pochettino ambiscono un po' tutti i malati rari una volta che sono diagnosticati e successivamente certificati. Dottoressa Di Michele, la dottoressa Fragassi in una sua illustrazione e spiegazione ha parlato del centro di coordinamento. Che cos'è da un punto di vista pratico? Il centro di coordinamento regionale che al momento è affidato allo sportello malattierare, quindi come diceva alla unità operativa di pediatria di Pescara, che in questo momento quindi rappresento, è il garante di una rete complessiva all'interno della quale ruotano molte figure, come possiamo vedere. Io direi per prima, diciamo, la figura più importante con cui si interfaccia il centro di coordinamento è il malato raro. Il malato raro che è al centro della nostra attenzione e al centro, perché in genere è una persona che ha sofferto, che ha familiari che hanno avuto un grosso iter diagnostico negli anni, grosse difficoltà e quindi il centro di coordinamento funge da collante per le esigenze dei malati rari, delle associazioni e anche degli aspetti sociali, perché la malattia rara, come lei ha detto, a volte è molto invalidante e devastante. A volte, soprattutto nel caso di malattie metaboliche che attualmente hanno una terapia che cambia la storia naturale, a volte per esempio abbiamo problematiche familiari che noi prendiamo molto a cuore, per esempio genitori che si rivolgono al centro di coordinamento perché i loro bambini, pur avendo una malattia grave che magari da lì a qualche anno potrà portare a un trapianto di fegato che ha delle restrizioni di vita importanti, però ai fini per esempio della legge 104 e dei criteri previsti dalla legge non rientrano nelle caratteristiche tali e allora il centro di coordinamento per esempio si interfaccia anche con l'Inps, cerca di tutelare in tutti i modi questi pazienti, dando diciamo la priorità al malato raro e alla sua famiglia. Poi il centro chiaramente è a disposizione dei pediatri e medici di famiglia, io amo chiamarli in questo caso di famiglia e non di libera scelta di medicina generale, proprio per indicare l'importanza di quella figura all'interno di quel quadro familiare dove c'è una patologia importante, una storia lunga dei bisogni speciali che a volte possono portare anche il genitore a perdere il lavoro, ad avere situazioni molto gravose e quindi il pediatra e il medico di famiglia sono veramente importanti figure di questo quadro. Non solo, il centro di coordinamento si raccorda con i distretti dell'ASM che con un rapporto bifasico nel senso che noi ci rivolgiamo a loro, loro si rivolgono a noi perché il paziente con malattia rara, come diceva bene l'autoressa Fragassi, ha diritto a una certificazione e dalla certificazione nasce il tesserino di esenzione che nella maggior parte è un'esenzione a vita, in alcuni casi è un'esenzione rinnovabile, in pochi casi. Ecco le farmacie ospedaliere che spesso devono poi erogare i piani terapeutici, a volte molto particolari come vedremo nelle prossime diapositive. Il centro poi ovviamente è un collante per tutti i medici specialisti dei presidi regionali e in questo caso si interfaccia moltissimo con l'Agenzia Sanitaria Regionale scambiando dati, collaborando all'elaborazione dei piani terapeutici, dei PDTA, dei percorsi cercando in ogni modo di mettere il malato raro al centro di una situazione seppur difficile per gestirla nel miglior modo possibile. In particolare come possiamo vedere dalla prossima diapositiva, il centro di coordinamento è chiamato in causa nell'accoglienza di un paziente che ha avuto una diagnosi da un centro extra regionale. La dottoressa Fragassi giustamente citava i presidi regionali, trattandosi di malattie molto rare, non possiamo pretendere che in Abruzzo possiamo essere esperti di tutte le condizioni. Io a volte sorrido con alcune amiche con cui ho condiviso la formazione e gli anni della specializzazione che attualmente lavorano all'ospedale pediatrico Bambini Gesù e dico ad alcune di loro non siete più brave di me, solo che voi vedete 100 bambini da tutta l'Italia con una patologia di cui io in Abruzzo magari ho un solo paziente. Quindi adesso al di là della battuta, l'esperienza cambia e chiaramente la formazione, la possibilità di essere all'altezza di alcuni pazienti dipende dalla, non possiamo pretendere in Abruzzo dove abbiamo per esempio solo 10 mila nati di diventare esperti di condizioni che sono ben più rare. Però siamo fortunati ad avere un rischio di malattie. Sì, però quando il paziente, quello che dico sempre ai pazienti, che quello che invece è importante è lo sforzo che noi mettiamo, perché quando il paziente ha avuto una diagnosi extra regionale, il coordinamento vedete al centro ho messo questo paziente che corre, in realtà quello in genere è il caregiver, cioè il familiare che fa di tutto per correre, per cercare di ottenere, giustamente dopo un lungo percorso extra regionale che è costato fatica, che è costato anni a volte di accertamenti, a quel punto arriva a volte allo sportello malattierare, io dico anche un po' arrabbiato, anche un po' ansioso di ricevere subito sia l'esenzione dal costo e quindi il legame con il distretto, sia la farmacia ospedaliera. Ma questo per noi è importantissimo, per noi è al centro del nostro lavoro, anzi quello che stiamo cercando di costruire una rete sempre più all'avanguardia, tant'è che io per esempio al momento ricevo da alcuni ospedali con cui siamo riusciti a costruire una rete efficiente, i piani terapeutici dei pazienti abruzzesi prima ancora della dimissione ospedaliera, in modo che noi possiamo preparare l'accoglienza in Abruzzo e preparare dispositivi, farmaci speciali, i farmaci magari galenici di cui hanno bisogno prima ancora che essi rientrino nella nostra regione e a volte dico ai pazienti che arrivano che sembra un meccanismo un po' burocratico, invece dico sempre non è burocrazia questo sforzo che la regione Abruzzo ha fatto, che il gruppo tecnico regionale di cui sono uno degli elementi ma che potete trovare in tutti i miei colleghi sul sito dell'Agenzia Sanitaria Regionale, lo sforzo enorme che l'Agenzia Sanitaria Regionale ha fatto di codificare con l'808 questo percorso è una tutela dei malati rari, quello che a volte può sembrare un passaggio burocratico in realtà serve proprio a tutelare questi malati, a far sì che le risorse economiche siano veramente dedicate a coloro che hanno molto bisogno e che non ci siano invece dispersioni e altri meccanismi che ne possano inficiare. Quindi l'ultimo passaggio dicevo, noi poi comunichiamo i dati all'Agenzia c'era nella diapositiva nominato il registro regionale perché tutti i pazienti che vengono da extra regione vengono poi da noi registrati sul sito del registro regionale che appunto è importante poi per non perdere il dato. Allora vado dalla referente dell'Agenzia Sanitaria Regionale, la dottoressa Fragassi per farmi e per farci spiegare che cos'è questo registro, dottoressa. Il registro regionale delle malattie rare è uno strumento che permette di raccogliere dati e informazioni delle persone che hanno ricevuto una diagnosi di malattia rara. Questi dati hanno finalità non solo epidemiologiche ma sono uno strumento di supporto anche alle attività di programmazione sanitaria. Come possiamo vedere dalla diapositiva, nel registro regionale confluiscono dati provenienti sia dai presidi della rete ma anche dallo stesso centro di coordinamento. Quindi gli specialisti, utilizzando una piattaforma informatizzata disponibile sul sito dell'ASR Abruzzo, inseriscono i dati dei pazienti ai quali hanno diagnosticato la malattia. Questi dati vengono poi controllati, monitorati per eliminare eventuali discordanze e incongruenze e dal registro regionale vengono inviati poi al registro nazionale istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità. La base normativa sulla quale poggiano questi registri, sia quello regionale che quello nazionale, è data dal Decreto Ministeriale 279 del 2001 con il quale proprio viene sancita l'istituzione di registri regionali di malattie rare che includono tutta la popolazione. e dall'accordo Stato-Regioni del 2007 che stabilisce come questo flusso regionale debba poi convergere a livello di un registro nazionale, perché questi dati sono fondamentali per programmare tutta la programmazione sanitaria a supporto della tutela dei malati con la malattia rara. Certo, questa stiamo vedendo la diapositiva che riguarda la nostra regione, sfogliamolo questo registro regionale. Dottoressa, quanti casi di malattie rare sono emersi in Abruzzo e soprattutto quali sono le malattie più frequenti che avete registrato, riportato? I dati che sono racchiusi all'interno del registro regionale sono stati oggetto di uno studio epidemiologico che ci ha portato a evidenziare l'incidenza della malattia rara nel biennio 2017-2018 dove per incidenza si fa riferimento a quelli che sono i nuovi casi di malattie diagnosticati. Quello che abbiamo ottenuto è che nel biennio vi sono state 815 nuove diagnosi a carico dei residenti in Abruzzo. Queste 815 diagnosi, tornando alla diapositiva precedente, fanno riferimento per il 46,8% alla popolazione di sesso femminile, una popolazione che ha un'età media di 46 anni e il 20,5% di questi nuovi casi è stato diagnosticato proprio a carico della popolazione pediatrica. Proiettando le stime nazionali sulla popolazione abruzzese, quello che osserviamo è che il registro regionale è stato in grado di garantire una copertura epidemiologica del 90%, quindi il 90% delle persone con malattia rara presente nella nostra regione sono registrate all'interno del registro. E questo è un traguardo raggiunto non da poco, un traguardo raggiunto grazie a un lavoro di equip, grazie a un lavoro di coordinamento effettuato dal direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale che di concerto con l'assessore alla sanità continuano a lavorare per garantire un miglioramento continuo per l'assistenza del malato con malattia rara. Sempre all'interno di questo report abbiamo stratificato la popolazione non solo per sesso e per età, ma anche in base alla tipologia di malattia rara. E tra quelle più frequenti va ricordata la malattia interstiziale polmonare primitiva, la sclerosi laterale amiotrofica, la miastemia gravis e i difetti ereditari della coagulazione. Ecco, questa è una prima stratificazione, non è detto che rimarrà tale, e quindi sarà fondamentale monitorare nel tempo come certe dinamiche, anche epidemiologiche, variano. Io ho ancora pochi minuti, non tantissimi, quindi chiedo alle mie graditissime ospiti uno sforzo di sintesi nelle risposte. Torno dalla dottoressa Di Michele. In questo campo delle malattie rare si può fare prevenzione? Dottoressa, e se sì, come? Ci sono soprattutto grossi progressi in campo metabolico, perché il progresso scientifico ha fatto negli ultimi anni tantissime acquisizioni e ci sono alcune condizioni che possono essere identificate ancora prima che si manifestino clinicamente. Quindi se un tempo queste malattie si manifestavano con la carenza di una proteina o con l'accumulo dei suoi precursori e davano un danno irreversibile quando la malattia era visibile, oggi possono essere identificate e trattate molto prima. Se vediamo la prossima diapositiva, in Abruzzo abbiamo, diciamo, con grande entusiasmo accolto quello che era ormai un LEA nazionale, quindi dovevamo partire, e grazie alla collaborazione di tutti i punti nascita, tutti i neonati abruzzesi dal 16 novembre 2018 sono screenati per 42 malattie metaboliche. Come vedete, la rete per lo screen neonatale esteso, quindi non più solo tre malattie rare, ma 42, comprende un laboratorio identificato presso l'Università di Chieti, che include il laboratorio di biochimica analitica, proteomica, endocrinologia e genetica. Quindi veramente tanti colleghi, tanti docenti, come potete vedere, che collaborano a questo progetto. E il centro clinico, la pediatria di Pescara, dove insieme a me la dottoressa Capanna segue questi bambini, ma che collaboriamo intensamente con l'Unità di Malattie Metaboliche del Bambin Gesù, dottor Dionisivici, che è un luminare a livello internazionale. Quindi nulla di autoreferenziale, i nostri bambini vengono scrinati, ma in maniera protetta, perché c'è un legame diretto con Roma, tant'è che i bambini più importanti, che necessitano di terapia nei primi mesi di vita o che hanno rischi grandi, vengono inviati a Roma. I bambini che possono essere gestiti in sede, sono gestiti grazie a questa stretta collaborazione con l'ospediale pediatrico Bambino Gesù, che ci fa anche da, diciamo, il laboratorio di conferma. Questo è importantissimo davvero perché è un passo avanti, l'Abruzzo vuole crescere tutelando i propri bambini. Una sola parola alle tante mamme che ci stanno ascoltando, se vi richiamano per uno screening positivo non vi agitate, il vostro pediatra vi potrà spiegare che qualche volta basta che la goccina di sangue sia un pochino più rada per avere una risposta incerta, quindi state tranquilli, in caso di una seria pericolosità noi metteremo a disposizione tutti gli strumenti per informarvi e quindi questo è un vantaggio dei neonati abruzzesi che si spera cresceranno più sani della nostra generazione prevenendo danni irreversibili e disabilità complesse. A proposito di mamme ma anche di papà, se uno dovesse avere bisogno a chi si deve rivolgere? Si può rivolgere allo sportello malattierare, io vi ringrazio per questa possibilità, è nato addirittura nel 2013, io lo seguivo, fa parte addirittura del mio progetto di ricerca in ambito di un dottorato sulle reti per le malattierare, lo sportello a questi orari, devo dire la verità, attualmente ha bisogno di un incremento di personale perché riceve dalle 15 alle 20 mail al giorno, quindi è veramente a disposizione dei pazienti, delle loro famiglie ma anche dei colleghi medici, di tutti, sperando di poter contribuire a questi pazienti sempre più con grandi risorse. Come possiamo vedere nella prossima diapositiva, per non rubare tanto tempo, lo sportello vuole essere a disposizione anche dei colleghi per condividere, per migliorare i nostri percorsi, ma soprattutto è a disposizione dei pazienti perché veramente possano essere al centro di una sanità che ha come priorità la malattia rara e i malati rari. Sperando sempre di non averne bisogno. Sperando, certo, però qualora ci fosse la necessità, noi siamo a completa disposizione, ne dico sempre ai nostri pazienti, non abbiamo la possibilità di curare tutte le malattie in Abruzzo, ma in Abruzzo abbiamo il desiderio di crescere e di andare incontro alle nostre famiglie. Dottoressa Fragassi, allarghiamo il fronte di informazione a beneficio dei nostri telespettatori. Esistono dei siti nazionali, istituzionali, dove trovare altre informazioni utili sulle malattie rare? Assolutamente sì. Oltre al sito dell'Agenzia Sanitaria, dove possono essere reperite informazioni dai report pubblicati ai certificati da utilizzare per la diagnosi di malattia rara, sono presenti all'interno dei siti istituzionali delle ASL informazioni sulle unità operative, così come normato, che prendono in carico i pazienti con specifiche malattie. Da un punto di vista nazionale, i due link a cui fare riferimento sono l'Istituto Superiore di Sanità e Orfanet, quindi per avere una visione a 360 gradi e un aggiornamento continuo anche di quelle che sono le novità nel settore scientifico. Su questa bella offerta, perché sono quattro siti trovate, oltre a quelli delle nostre ASL abruzzesi, i nostri telespettatori che eventualmente avessero bisogno trovano tutto praticamente. Esatto. Grazie, grazie alle nostre ospiti, grazie alla dottoressa Silvia Di Michele per essere stata con noi. Grazie a lei. Specialista in pediatria, referente malattie rare della regione Abruzzo, grazie alla dottoressa Giorgia Fragassi, grazie a lei, biologa, referente dell'Agenzia Sanitaria della regione Abruzzo. Con loro abbiamo parlato di malattie rare, come avete letto in titolo, focus sulle malattie rare a livello nazionale ma anche a livello regionale. Grazie in regia Francesco Specchiuli e Andrea Di Fabio per la post-produzione, il grazie più grande come sempre per voi telespettatori. Con voi ci vediamo la prossima settimana, stesse orari, ma naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie e arrivederci.